Parte dalla spiaggia della sezione di ostia della Nega Navale, la settima tappa del Giro d'Italia Nuoto 2021 per i diritti delle persone con disabilità, che vede protagonista è il nuotatore Salvatore Cimmino. 56 anni, originario di Torre Annunziata, ma romano d'adozione, a soli 15 anni dopo un terribile osteosarcoma ha subito l'amputazione di una gamba, ma non si è mai arreso e da anni si batte attraverso il nuoto per un mondo senza barriere e senza frontiere. Il messaggio è proprio quello di compiere tutti i nostri sforzi per rendere attuale questo enorme patrimonio legislativo di cui il nostro paese è dotato, iniziando dalla 41-86, che disciplina i PEBA, che sono i piani di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui purtroppo dal 1986 solo pochissime comunità, pochissime città, pochissimi villaggi se ne sono dotate. Questo Giro è partito da Ventimiglia e si concluderà a Piazza Unità d'Italia Trieste, con la speranza viva di quello di avere con me, con noi, con il mondo della disabilità, il nostro Presidente della Repubblica. Lo invito fin da adesso, spero veramente nella sua presenza e poi ci tengo a dire che durante questo percorso di quasi 20 chilometri che separa Ostia da Torvajanica, passeremo anche davanti a una delle sue residenze. Ad affiancarlo nel percorso, 18 chilometri da Ostia fino alla spiaggia di Torvajanica, anche il personale della Lega Navale, che segue il nuotatore in tutte le sue tappe. Noi, diciamo, come sezione diamo il supporto e l'assistenza in acqua insieme alla Lega Navale di Pomezia, perché il tratto che percorre è proprio tra noi e loro. Quindi insieme scorteremo Salvatore per tutto il tragitto, perché lui farà delle tappe, diciamo, repentine anche per idratarsi, insomma, ci compierà questa traversata in circa 5-6 ore. La Lega Navale italiana, la presidenza nazionale, ha sposato questa causa e accompagna Salvatore in tutto il suo giro d'Italia attraverso le proprie sezioni. Questo è proprio uno delle nostre principali attività istituzionali, che è proprio quello di fare inclusione, cioè di permettere di vivere il mare a tutti. Il giro d'Italia nuoto è iniziato a maggio da Ventimiglia. Dopo la tappa di Ostia, Cimmino arriverà in Sicilia a fine luglio, poi la Calabria, le Marche e il Veneto, fino alla conclusione il 9 ottobre a Trieste.